Allora se vi dicessi queste tre parole Madame, 14 anni e Jets Voi direste ma che cazzo? E invece no, e invece Mara ci ha visto un talento E di fatti non se l'è lasciato sfuggire Dandogli il suo golden buzzer Ma d'altra parte, come si dice allo stadio Mara ce l'abbiamo solo noi Solo noi Solo noi Lui è un piccolo trombettista che suona pezzi rap contemporanei Una sorta di miracolo che si chiama Davide Battista Davide, ragazzino napoletano di 14 anni Talentuoso, musicista Non ce l'ho più visto, l'ho schicciato All'audition ero molto molto emozionato Quando ho sentito il primo applauso è stato fantastico E più suonavo più mi divertivo Bravo, mi piaci molto, io vado Quando ho visto tutti i coriandoli che mi scendevano addosso Li guardavo ma non riuscivo a capire Io mi auguro che tu diventi un grande musicista Te lo meriti tutto Grazie mille Il palco di Italia's Got Talent mi ha fatto prendere più confidenza in me stesso Stasera farò qualcosa che mi rende veramente felice Ovvero suonare con dei musicisti straordinari Che hanno suonato con i grandi della musica internazionale e italiana Stefano Lestini al piano Dario Roshione al basso E Gia Gia Munai alla batteria Per me è un vero onore suonare assieme a loro E stasera suoneremo la musica che piace a me Quella dei Maneskin No Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie! 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 Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Ringrazio io Tecchi che hai fatto parte della figura. Bravo. Grazie mille. Mara, molto fiera di te. Allora, grazie Davide Battista. Se a voi da casa è piaciuto il suo numero, per votarlo il suo codice è il 10. Davide Battista. Uh!